SIGLA Aiutami, ti prego! Non avevi la minima speranza! Non avevi la minima speranza! Levatelo dalla testa! Non avevi la minima speranza! Non ti stai divertendo. Non graffio. È finita. Un inquisitore non si arresta di fronte agli ostacoli. Quando hai già perso te stesso, un altro è poca cosa. Sai, ero un Jedi anch'io. Farà un vero piacere catturarti e vederti andare in fessi come tutti gli altri. Sei arrabbiato. Aspetta di conoscere l'isolamento. Le torture, le mutilazioni e i tuoi amici. Non ti lascerò toccarli. Non puoi fermare l'impero. Io posso fermare te. Sì. Abbiamo appena steso un inquisitore. Ehi, pensavamo fossi morto. È bello rivederti. Ora dobbiamo andare. Sì, Regris ci aspettano. St Gospel di Sampai. Sì, Regris ci aspettano. Come ci spettano. Sì, Regris ci aspettano. Grazie a tutti. 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 qualcosa sul diventare un inquisitore come pare sia inevitabile ma tu hai sopportato quello che è successo a lei e non ti sei unita a loro cal va bene sir troveremo rolocron di cordova togli il tuo laser dal mio pranzo ecco dove andremo imposto la rotta per aspetta vuoi andare su dadomir cordova è andato lì avrà avuto le sue ragioni rimarrò sulla mantis una volta arrivati la luce rossa del sole non giova alla pelle era la casa delle sorelle della notte una setta di utilizzatrici della forza usavano la forza come i jedi no queste streghe servivano solo se stessi i loro poteri si basavano su inganni illusioni e manipolazioni come qualcuno di mia conoscenza nelle guerre dei cloni un signore dei sit tradì il patto stipulato con loro alla fine un massacro le annientò quasi tutte datomir è un pianeta mortale stiamo attenti non dirmelo due volte stiamo arrivando a destinazione dai siediti cal sulla nave al riparo al riparo ci sono pareti un jedi sono al sicuro sì ehi cal con sir va tutto bene? non lo so ora ci sono cose più importanti sir ha fiducia in te a essere sincero all'inizio non mi piacevi più di tanto l'ho notato poi mi ha costretto a seguirvi nei posti più tremendi della galassia e sì già sì è vero beh vi auguro di chiarirvi presto così possiamo finire la missione e rilassarci da qualche parte conosco un bel castello su Takodana in cui fanno il miglior rancorcello della galassia cal hai un attimo hai fatto tanta strada da Bracca ma il cammino è ancora lungo e i pericoli dietro l'angolo sono molti me la caverò so che sei in grado non lo metto in dubbio e io so cosa va fatto non è nulla di nuovo cal anche il jedi più forte non sono Trilla ce la farò lo so non intendevo questo non serve che mi dici niente va tutto bene sir davvero sii prudente cal tutto qui grazie a tutti Grazie a tutti.